Salve amici, oggi un altro video su un altro insetto succhiatore. Qui siamo di fronte ad una pianta di cedro, quella che stiamo inquadrando è l'iseria pur casi, è la cocciniglia degli agrumi, la cocciniglia cotonosa striata diciamo detta, praticamente dà gli stessi effetti che danno gli afidi, essendo un insetto succhiatore si pone sotto la pagina della pianta e ne succhia la linfa, quindi debilita la pianta in questo modo. Inoltre poi che fa? Chiaramente fa la stessa melata che fanno gli afidi, quindi quella melata poi prolifereranno i funghi, si verificherà l'invasione della fumagine che debiliterà ancora la pianta perché non riesce più a fare degnamente la sintesi clorofiliana. Anche questo insetto depone una miriade di uova, poi vi faccio vedere una sacca di deposizione delle uova, all'interno di quella sacca poi riesce a depositare dalle 400 alle 800 uova che in breve termine, nell'arco di scarso un mese nasceranno i loro piccoli che vanno a succhiare di nuovo linfa. Siccome anche questo insetto non ha esoscheletro quindi è rivestito da uno strato diciamo così ceroso, con la stessa soluzione che si dà agli afidi possiamo andarlo a debellare. Quindi ora vi faccio vedere prima diciamo la sacca dove ha deposto le uova in modo da riconoscerla e poi andiamo a riformulare l'insetticida totalmente bio per andare a debellare questo fastidiosissimo insetto succhiatore. La soluzione biologica contro la conciniglia è uguale, identica a quella lì degli afidi, quindi sempre il nostro sapone molle da sale di potassio e il nostro preziosissimo nimme insetticida, quindi possiamo fare le prevenzioni, gli attacchi oppure le soluzioni forti. In fondo al video vi lascio comunque il link di riferimento della soluzione aficida. Vediamo come si prepara velocemente la soluzione concentrata da poi diluire nella nostra acqua. Io sto facendo 10 litri di acqua quindi mi sono preso 100 grammi del nostro sapone, ho preso 300 grammi di acqua, l'ho riscaldata a 45-50 gradi e ho aggiunto il sapone all'interno di questo bicchiere. Poi che ho fatto ho preso con un frullatore d'immersione in maniera che lo sciolgo subito in che non si dica, una volta che ho raggiunto questa soluzione quasi cremosa aggiungo il mio olio di nimme in modo che l'olio di nimme viene immediatamente incorporato in questa soluzione saponosa. Solo dopo vado ad aggiungere questa soluzione concentrata nella mia soluzione di acqua, quindi 300-400 grammi di acqua, 100 grammi di sapone, 50 grammi di olio di nimme da aggiungere a 10 litri di acqua. Spero che anche questo tutorial vi sia stato di aiuto, grazie al prossimo video amici, lascio sempre i commenti aperti come al solito. Ciao ciao!